Oggi abbiamo fatto delle istanze istruttorie, come sapete bene, che sono state presentate da diversi colleghi. Peraltro, molte di queste istanze istruttorie sono già state proposte nella seduta del 9, dove erano presenti tutti i colleghi, compresi quelli che sono stati autorizzati ad andare in missione e quindi abbiamo chiesto che fosse garantito, come era stato garantito, che non ci sarebbe stata nessuna forma di votazione, fino comunque alla data che era stata preventivata in origine o comunque alla data di rientro della missione. Incredibilmente, ciò che era già stato proposto il 9 non è stato proposto in votazione il 9, ma viene proposto in votazione oggi quando mancano due membri della giunta. Ha rivotato anche Gasparri anche oggi? No, noi non abbiamo partecipato al voto perché riteniamo che la giunta mancasse di due componenti in cui era stato garantito che non ci sarebbero stati voti. Peraltro, le istanze istruttorie erano anche molto serie e nascevano anche dalla relazione che ha proposto il Presidente Gasparri, che ovviamente è una relazione che viene votata non solo per il dispositivo, ma anche per le argomentazioni a sostegno. Quindi una serie di interrogativi sono sorti nei colleghi grazie anche alle argomentazioni che il Presidente Trattino Relatore ha proposto nella seduta del 9 medesimo. Quindi questo è qua.